Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa di parte culminante di una campagna iniziata ormai un anno e mezzo fa di raccolta firme per una proposta di rete di iniziativa parolare per la regolamentazione della produzione, consumo e commercio della cannabis per tutti i fini. Molti dei presenti, sia da questa parte che del tavolo, hanno anche partecipato per raccolta firme, altri li abbiamo incontrati strada facendo perché oggi purtroppo non parleremo di regolamentazione per tutti i fini della pianta, ma solamente per la parte medica. La legge come sapete è stata stracciata dalla Camera, è stata tolta da parte relativamente a tutto ciò che non fa parte delle possibilità terapeutiche della pianta, è rimasta soltanto un articolato che secondo noi è inutile, ma sicuramente non è da noto, non è particolarmente utile perché fa la rassegna delle normative che già esistono, magari complicando alcuni passaggi e poi ne parleremo strada facendo stamattina. Siamo però da una parte soddisfatti del fatto che finalmente i cittadini legislatori sono stati partecipati attivamente a una decisione parlamentare, tanto è vero che la nostra legge è stata aggiunta alle altre nella primavera, la tarda primavera di quest'anno e una volta giunta alla Camera però non c'è stata naturalmente la possibilità di presentare i vendamenti direttamente perché la Costituzione non lo prevedono, ma grazie ad alcuni parlamentari, ringraziamo in particolare il gruppo di Sinistra Italiana e l'onorevole Maramucci per il lavoro che hanno continuato a fare come neanche la facendo per dare i nostri problemi, abbiamo cercato di limitare qualche danno che strada facendo si era creato a questo nuovo disegno di progetto. La mobilitazione popolare credo che sia stata non soltanto notata nei mezzi di comunicazione di massa ma anche in altri luoghi decisionali e sicuramente le commissioni di bilancio nella preparazione di tutto ciò che hanno a fare rispetto fiscale e la legge di bilancio hanno fatto tesoro delle richieste, in particolare dei malattie, ne abbiamo alcuni con noi stamani che parleranno più tardi. Le richieste sono fondamentalmente una, cioè non si riesce a trovare il prodotto. Perché? Perché c'è una regolamentazione molto rigida che da una parte complica e allunga le pratiche di importazione di alcuni prodotti e dall'altra non ha finanziato sufficientemente la possibilità di produzione dei limitati all'unità di Firenze. Sono stati, come sapete, invece da parte, almeno, diciamo, a calvo, maxime da vendi, 2 milioni e 200 mila euro, da destinarsi a 1 milione e 6 al potenziamento delle serbe dell'ottabilimento per un'unità di Firenze, 200 mila per l'importazione di altri prodotti, vedremo cosa succederà. Noi da sempre, e lo dico noi, ma lo dico noi in particolare la associazione Luca Coscioli siamo a favore di una liberalizzazione del mercato, cioè fermare stando la possibilità di poter coltivarsi a casa per qualsiasi motivo, in questo caso per una terapia che uno decide anche di autodisegnarsi la coltivazione domestica. Secondo noi quanto più apriamo al mercato, quanto più facile sarà trovare prodotti e quanto si appasserà il prezzo. Leggevo l'altro giorno che in Colorado si è arrivato a far costare un grammo 30 centesimi di dollari, che sono una città, che chiaramente, diciamo, a oggi quindi in Italia è totalmente fuori dai ragionamenti, visto che considerano questa politica di questa comunicazione. Per quanto riguarda, con questo concludo, le richieste che fa l'associazione Luca Coscioli insieme agli altri è sicuramente di trovare quel giorno e mezzo di dibattito necessario. Ancora oggi non è stata caratterizzata delle commissioni competenti, questo è un esempio di legge, ma a legislatura vigente lanciare degli studi, e ne parlavamo più avanti persone che si è intendo sulla cannabis, in particolare sulla FN2, quella d'oltre a Firenze, avviare dei trial clinici per capire in effetti quali possono essere le possibilità terapeutiche e documentate e documentabili, perché ancora oggi non esistono studi in Italia, in italiano, su questo tipo di possibilità terapeutiche della pianta, e poi, come detto, consentire un incremento, secondo noi, del mille per cento, ma comunque significativo, della produzione. C'è appena raggiunto il senatore Sergio Lo Giudice, che è il nostro obbite, quindi gli diamo immediatamente la parola, perché magari altri impegni, e poi la presidenza dell'Università Perugini, il segretario dell'Università. Grazie. Bene, grazie, grazie Marco, grazie a tutti e tutti voi per questo momento in cui insieme rilanciamo una necessità, necessità di approvazione, appunto, di norme che consentano nel nostro Paese e finalmente di dare un quadro normativo chiaro, solido, completo rispetto all'utilizzo terapeutico della cannabis. È un obiettivo in progress, che sappiamo, raggiungeremo immediatamente anche con l'approvazione, spero, oramai imminente, delle norme in discussione alla Camera. C'è un ragionamento ampio, culturale, prima che politico e normativo, che va fatto nel nostro Paese, che riguarda in generale il tema delle droghe, che riguarda la ridefinizione di una normativa complessiva sulla questione dell'utilizzo di stupefacenti, del modo in cui lo Stato deve punire o non punire l'utilizzo di queste sostanze. Noi abbiamo presentato lo stesso depositato qui in Senato un disegno di legge che mira fondamentalmente a togliere dall'ambito del proibizionismo la relazione dello Stato con l'utilizzo di sostanze stupefacenti. All'interno di questo c'è il tema della cannabis, su cui è veramente un peccato non si sia riuscito in questa legislatura a mandare in porto una legge che depenalizzasse totalmente, che consentisse nel nostro Paese l'uso della cannabis non solo a scopo terapeutico umano, ma anche a scopo ricreativo. Un obiettivo che io credo dovrà comunque rimanere in piedi per la prossima legislatura e all'interno di questo tema c'è quello di cui stiamo parlando. Cioè un pezzo piccolo piccolo ma così importante non solo per le persone che potrebbero e dovrebbero avere accesso alla cannabis e ai suoi derivati per curarsi, ma anche dal punto di vista culturale come un primo segno di un'inversione di tendenza del rapporto tra la normativa e la possibilità, capacità, libertà, autodeterminazione delle persone a relazionarsi con delle sostanze che per l'appunto nel caso della cannabis a uso terapeutico sono non solo non dannose, ma appunto utili per la propria salute. Abbiamo visto come in questi anni, pur in presenza della possibilità di accesso alla cannabis a uso terapeutico e di sperimentazioni importanti avviate in diverse regioni del nostro paese, abbiamo visto come in realtà questa sia fino ad oggi una strada e tra gli ostacoli. Sono a me che ha fatto due volte di presentare l'interrogazione del governo per esempio sulla difficoltà di avere accesso al belio per via appunto di una faraginosità dei meccanismi di reperimento della sostanza a legislazione vigente e in un contesto in cui viene consentito dalla legislazione, ciò che però non viene operativamente poi ha reso possibile, ma se la nostra Costituzione dice che bisogna rimuovere gli ostacoli che consentano di cittadino di esercitare la propria cittadinanza, di sviluppare la propria personalità e qua anche su questo tema non è sufficiente inserire nel nostro ordinamento un principio di libertà di accesso a una sostanza quando poi l'accesso reale, concreto a questa sostanza non viene reso disponibile e quel diritto quindi non viene reso esigibile. Io mi auguro quindi che questo scorso di legislatura possa vedere un primo passo in una direzione che dovrà vedere la nostra situazione molto alta e dovrà consentire alle persone, a partire appunto le persone che ne hanno bisogno, scopi terapeutici, di poter rivedere complessivamente il rapporto con queste sostanze. Io darò con voi un po' ma poi dovrò risalire in aula, comunque auguro un buon lavoro a tutti e soprattutto buona fortuna a tutti noi per il buon esito di questo primo passo verso l'obiettivo che ci riproponiamo. Grazie a tutti. Grazie segretore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo stralcio dello stralcio, lo stralcetto, non è sufficiente a garantire il diritto a curarsi con la cannabis, a garantire l'uniformità dell'esercizio di questo diritto su tutto il territorio nazionale, l'informazione e la ricerca sugli usi che era prego. Per questo pediamo ai senatori di trovare la parte politica procedurale per trasformare in legge una normativa che ha già dimostrata di ricevere ampio consenso non solo alla Camera ma soprattutto nel Paese. scelgo immediatamente la parola per tempi molto stretti per cui chiedo a Carlo Monaco di intervenire e che si può preparare all'esercizio di Alessandro. Buongiorno, Carlo Monaco, Presidente Canapa Caffè, associazione a Roma. Purtroppo in questi mesi abbiamo raffalto tantissime testimonianze delle difficoltà che hanno i pazienti. Difficoltà sia inizialmente ad accedere alla cannabis terapertica, ma da maggio-giugno si parla di difficoltà di riferimento dei farmaci a base di cannabis, introvabili nelle farmacie e nelle asme. Di fatto seguire un piano terapertico è diventato possibile. Proprio per questo lo scorso mese siamo venuti anche qui al Senato, trovando per tutta una volta con il Senato di Napolillo o il Movimento 5 Stelle, una proposta di legge per permettere ai pazienti con prescrizione medica la motivazione dei quattro piante di cannabis a testa. A nostro avviso, tale opzione avrebbe immediatamente dato maggiori possibilità di approvigionamento e di serenità per chi soffre. Ma la proposta non è stata accettata, la nostra emergenza non è stata ancora presa in serie a considerazione. Io penso solo che se tante persone che sono soffrono sono qui. Sono qui perché ho visto che la cannabis allega queste sofferenze. Queste persone, nonostante tutti i propri problemi che hanno, sono venuti ancora una volta per cercare di prendere le cose avanti. E sperano che la politica voglia scortare questa nostra testimonianza, dimostrando di prante le decisioni di tutti e di tutti. Oggi si chiede di assicurare le relazioni gratuiti di farmaci che non di tutti le regioni. È assoluto trattare pazienti e patologie in maniera diversa a seconda della risidenza. Siamo italiani tutti. Ma soprattutto chiediamo che la cannabis che ora non c'è in farmacia. Chiediamo che, per non farla mancare, dunque oltre alla possibilità di autocoltivazione, il futuro, cosa che per la mia associazione resta e resterà la soluzione riprendata, chiediamo che la cannabis che la pratica renda presto prodotto a tutte le regioni italiane, da tenere competenti. Abbiamo le strutture che possiamo creare e siamo sicuri che volendo in poco tempo potremo risolvere qualsiasi problema di riprendibilità e costi, se si spaziassero in maniera intelligente il finanziamento da tutte le regioni. Speriamo che la politica andrò a essere sensibile a queste richieste. Grazie. Grazie Carlo. Alessandro Raudino. Tanto diamo il benvenuto in sala da Andrea Triscioglio con una bella pianta. Ringraziamo di nuovo il senatore Presidente per aver accompagnato via Andrea e la pianta, che è una pianta legale che ha tutto il diritto di poter restare tradizionato. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Raudino, Presidente di Cannabis Sicura Sicilia Social Club e che è malato di scolosi multiplo a mai da 12 anni. A dicembre, anzi gennaio, farò 13 anni fra il compleanno con la mia malattia. Da ben 5 anni a mai mi curo con la Cannabis e ho risolto la più grande dei miei problemi. Sono uscito anche fuori da un tumore al colon dovuto all'abuso da farmaci. Ho fatto 800 conture. La Cannabis è stata l'unica soluzione da oggi. E' riuscito realmente a darmi il senso di continuare a vivere, perché comunque la depressione inizia a prendere il sopravvento. Da questa mia forza data, da questa pianta, è nata anche l'idea di creare la prima associazione in Sicilia, nella regione a sud dell'Italia, ma con tante difficoltà, pregiudizi, perché 5 anni fa parlavamo di Cannabis, parlavamo del diavolo, parlavamo della pianta del demono, parlavamo di altre cose. Oggi, per fortuna, se ne sta parlando molto di più, ma i problemi sono sempre rimasti, perché l'apprivigionamento, la prescrizione e i medici che prescrivono sono sempre pochi. E oggi come oggi, da anni, da agosto, io ho difficoltà a aprire i Cannabis. Allora, la nostra iniziativa come associazione abbiamo deciso, all'inizio di quest'anno, visto le previsioni che ci sono state, abbiamo deciso di regalare ogni serato un SEM, come disobbedienza, coltivarsi una bandina di Cannabis a casa per la propria cura. Sotto controllo, con sotto controllo, con la importanza, l'importante che ognuno di noi abbia lavoro, perché oggi, tornando in Sicilia, il mio problema è quello che persiste. La farmacia non trovo più Cannabis e la cosa fondamentale è che, comunque, io non devo vivere più che altro, anche perché il mio lavoro, faccio l'operatore sanitario, mi occupa un bel po' della mia forza, senza Cannabis questo non riesco. Infatti, la mia più grande aspettazione a questo incontro di oggi è quello di spiegare con le coscienze. Io ho cambiato un po' il discorso di oggi proprio per questo motivo, ho voluto un po' stravolgerlo proprio perché la coscienza sta nei primi passi, la malattia o i malati, comunque, non dobbiamo metterli da parte, perché ormai l'articolo 32 della Costituzione molto spesso è stato cappestato, questi diritti sono stati cappestati. Adesso però non possiamo più farlo in me, anche perché oggi, nel 2017, dichiarare una pianta illegale, per quale motivo? Qual è la motivazione ideale? Dopo ci sono prove scientifiche che testano che non è una gente dove creare nessun danno, non capisco ancora dove vogliamo andare a parare. Con questo io vorrei chiudere un po' quello che è il mio intervento, dicendo solamente una cosa, che comunque fare una differenza tra il terapetico e ludico, è proprio sottile la differenza, anzi forse non ne esiste neanche, perché comunque oggi si può dichiarare l'uso totalmente terapetico per tutti, perché comunque lo stress prima o poi diventerà anche una patologia e chi non è oggi stressato in Italia. Grazie a tutti e spero di aver dato un biglio in giro a questa battaglia. Puoi venire anche accompagnato dalla pianta? grazie a tutti. Grazie. giovane ma è forse il più vecchio tra i presenti dei militanti della Canada di Sudafereotica almeno in età buongiorno grazie per essere qui volevo semplicemente un po' riposo la prima da attento osservatore di tutte le battaglie di proibizione insieme nel mondo radicale io ho notato che vengono tutte vinte quando usciamo in campo i malati ecco perché con un po' di autostima per me malato dico eccoci e oggi qualcuno lo chiama l'ultimo atto per il 2017 beh lo dobbiamo dare per forza ai tanti che hanno parlato anche prima di me agli Alessandro Rodino e Carlo a tutte le persone che oggi necessitano di Cannabis quello che dico sempre ci sono persone che stanno male persone che muoiono persone con patologie carissime e qua si sta ancora a parlare no la Cannabis deve essere legalizzata qua c'è da legalizzare Marco Berlusconi un'Italia come diceva Marco Pannello beh io so solo una cosa che guardando sì come dicevo tutte le battaglie antipropizioniste ci siamo e quindi si deve legalizzare per forza non più appositamente mi chiamo Andrea Tifuoglio oggi è Santa Andrea cattolice e su amina però spero che il santo ci assista in questo giorno quindi legalizziamo grazie Andrea e si prepara a paura grazie preferisco badarmi sugli appunti in modo da rischiare di dilungarmi troppo io parlo di rappresentanza dell'associazione cannabis terapeutica che è stata fondata nel 2001 con l'obiettivo di mettere la cannabis e i suoi derivanti a disposizione di tutti i pazienti che abbiano una necessità come diceva adesso il mio amico Andrea e sulla base delle evidenze scientifiche accumulate negli ultimi decenni l'associazione è attualmente presieduta dal dottor Francesco Prestani che è neuroanestesista all'ospedale di Lovigo comprende anche numerosi pazienti tra cui ancora ripeto l'amico Andrea che scioglio che mi ha preceduto nonché altri illustri medici e scienziati tra cui il professor Vincenzo Di Marzo lo è ricordato dell'Università di Napoli scopritore lo scopritore dell'anandamide che è il ricercatore appunto che dice la parola grete anzi di europea della felicità no? in questo senso che può dare la Cagliatis il dottor Gianpaolo Grassi vorrei anche ricordare il primo ricercatore del centro di ricerca per le posture industriali di Lovigo che da molti anni sta lavorando anche lui attivamente per poter promuovere anche dal punto di vista della promozione politica queste benedette leggi che tardano ad arrivare l'associazione inoltre è membro dell'International Association for Cannabis as Medicine che a sua preia che a sua volta non era tra i suoi componenti autorevolissime personalità scientifica come il professor Raffaele Feciulan dell'Università Ebrea di Gerusalemme il segretore del tetraidrocannabinolo e il professor Francio Dottenerne del nuovo istituto di Colonia direttore dello stesso IACM quindi io ricordo che già nel 2000 il mio indimenticato maestro professor Roberto De Lonesi all'estate di Milano aveva sostenuto con forza la necessità di studiare e utilizzare per i pazienti le proprietà mediche della cannabis 2000 anno 2000 quando lui era per un breve periodo ministro della sanità trattando questo farmaco al pari di qualunque altra molecola senza discriminazione qualunque altra molecola utilizzata nei campi in cui si è dimostrata efficace come la terapia del dolore cronico la sclerosi multiple e numerosi altri quadri clinici assai livellanti in medicina in base a tutto ciò noi di ACP auspichiamo come ha già detto Andrea che questa legge almeno questa anche se in parziale complessa bisogna certamente adottare modifiche migliorative però insomma comunque anche questa vada in posto e sia poi correttamente applicata e a tal fine vorrei aggiungere che noi vorremmo incoraggiare quindi i senatori a invocare senza esitazioni la strada della piena legittimazione di questo farmaco tanto per cominciare poi avrà giustamente anche l'uso educativo naturalmente però prima di tutto questo farmaco lasciando che la scelta c'è un'espressione ormai in balsa lasciamo che la giustizia faccia il suo corso ecco lasciamo che la scienza faccia il suo corso per positiva senza intracci e ritardi dovuti a pregiudizi ormai del tutto anacronistici grazie Paolo Paolo si è raggiunti anche il senatore Luizio Reiana se vuole prendere la parola dopo il dottor Poli grazie 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 del benvito io vi rappresento la SIVICA che è l'unica società scientifica disegnana di ricerca di canna la nostra non è una associazione una società scientifica cosa vuol dire questo? vuol dire che all'interno di questa società ci sono solamente persone che fanno ricerca sia ricerca sul campo ricerca clinica ricerca farmacologica farmaceutica e così via vi posso dire che in realtà girando un pochino per l'Europa siamo fortunati noi perché i francesi gli spagnoli sono invidiosi della nostra legge noi ci lamentiamo però in realtà qualcosa abbiamo c'è qualcun altro vicino a noi che invece non ha nemmeno una legge e addirittura la realtà non l'abbia io ho colleghi che sono stati messi in francese che sono stati messi in prigione perché per la loro patologia usavano la cannabis detto questo vi ringraziamo per quello che state facendo il problema grosso signore è che non c'è ricerca in Italia voi parlate di cannabis noi medici parliamo di tanti tipi di cannabis vi faccio un esempio molto molto semplice se io do sapete che la cannabis è favolosa per l'edilessia ma se io do il bedro che hanno un bambino epilettico praticamente vi faccio dire le condizioni quindi io devo dare un tipo di cannabis senza THC al contrario un parziale degli altri del sistema del corso centrale vi devo dare del THC quindi a prescindere che la liberalizzazione è una cosa che non ci interessa da un punto di vista politico ma noi vogliamo dei dati certi vogliamo un prodotto certo cioè più prodotti certi da poter usare nelle varie patologie e quindi appoggiamo quello che viene fatto ora a prescindere dalla mancanza in questo momento di prodotto che speriamo che la cosa si possa risolvere però siamo ve lo ripeto siamo fortunati vogliamo quello che c'è e vogliamo la ricerca ci stanno prendendo in giro non danno assolutamente nessun euro per la ricerca io vi dico personalmente ho uno studio di genetica su 300 pazienti fermo perché mi mancano 1500 euro per fare l'estrazione del DNA per capire i dosaggi sulla cannabis non sappiamo dove vanno questi soldi altro problema la formazione chi la fa la formazione ci siamo proposti al ministero più di una volta ci hanno completamente ignorato ma non male in Italia siamo tanti medici che si prescrivono la cannabis c'è il di cannabis va bene coinvolgeteci i farmacisti lo stesso coinvolgete quelli che lavorano sul campo questo chiediamo chiediamo un pochino più di considerazione dal punto di vista scientifico e chiediamo dei finanziamenti per la ricerca quindi grazie grazie molto poi Luiz siamo anche l'arrivo del senatore Rillo Campolino anche Luiz quando vuole può prendere la parola dopo tra loro arriviamo Marco Ternetti bravissimo ringrazio per l'invito io non posso aggiungere niente di scientifico in effetti non ho nel mio campo credo che il mio mi rilaccio però le parole dette da Poli recentemente io credo che la ricerca è quello che ci fa avere le informazioni per poter prendere decisioni consapevoli la politica io mi piace molto essere pragmatico anche parlare specificamente di contenimento del danno se il danno si tratta ma per capire se è danno o no vantaggi svantaggi di qualsiasi cosa ci vuole la ricerca scientifica quindi questo è un dato che mi sento di sostenere precisamente io credo che la politica spesso si dimentica di fare decisioni che in inglesi chiamano data decision dream cioè decisioni diciamo prese in base ai dati che si hanno spesso si va molto troppo forse su temi pseudo-etici diciamo ma invece bisogna pensare più completamente non so se è stato detto perché sono arrivato adesso perché c'è l'aula in corso diciamo nel decreto fiscale è stato introdotto diciamo la possibilità di estendere la produzione di cannabis terapeutica nel caso in cui diciamo la produzione dell'istituto militare di Firenze fosse sufficiente in questo caso di piccolo passo positivo per garantire a chi diciamo le condizioni cliniche necessitasse diciamo di procedere con la possibilità di farlo quindi io vi ringrazio ancora chiudo qui cercherò di servire per quanto possibile perché mi dicono che l'aula sta andando avanti anche con qualche problema di ordine diciamo o di disordine grazie grazie a te grazie anche per aver preso al volissimo supplementamento da presentare grazie 10 giorni fa appudito del movimento 5 stelle signorale giudice del PD e Aureliana gruppo che sono poi i gruppi sui quali noi abbiamo da sempre avuto maggiori speranze tanto alla Camera quanto al Senato prego sì intanto grazie per aver organizzato questo incontro questo è un argomento che io seguo diciamo un po' da parecchi anni soprattutto quando sono entrato qui in Parlamento l'obiettivo deve essere quello di spiegare innanzitutto informare la popolazione ma soprattutto spiegare ai cittadini italiani circa l'inganno che è stato a loro consegnato in tutti questi anni perché sì perché è stato sempre un tabù parlare di cannabis di marijuana di THC perché c'è qualcuno riconosciamo i personaggi i nomi che hanno sempre criminalizzato questa pianta il messaggio che è passato è che questa pianta che contiene questo THC che è una droga leggera è un male assoluto e quindi io quando facciamo gli incontri quando facciamo i convegni tengo sempre a precisare questo allora noi in Italia abbiamo questa situazione anomala dove abbiamo alcune droghe pesanti illegali faccio ad esempio il tabacco perché sul tabacco c'è scritto il funcile eppure è legale il problema è che da piccoli a scuola ci hanno insegnato che legale è buono illegale è cattivo allora è chiaro che l'approccio verso per esempio il tabacco che contiene tra l'altro additivi chimici è quello di è vero che c'è scritto che fa male però è legale allora noi abbiamo milioni di malati e milioni di morti per tabacco legale la cannabis quante persone ha ucciso nel pianeta zero quante persone ha fatto ammalare in tutto il pianeta zero eppure è illegale allora lo capisci che è proprio un inganno cioè c'è qualcuno che ovviamente questa storia nasce lo sappiamo negli anni 3 1930 che doveva far passare un messaggio cioè la cannabis è far male vi ricordate quando ho fatto su youtube quel video di quella ragazza che cominciava a fumare che stava bene all'inizio era felice quando fumava quando fumava marihuana poi a un certo punto le crisi le paure eccetera eccetera un prodotto americano cinematografico alla fine si lancia dalla finestra per colpa della cannabis questo era questo messaggio questo spot televisivo quante persone ci sono lanciate da una finestra per colpa della cannabis una l'attrice e lo spot allora è chiaro che siamo davanti a una mistificazione della realtà tra l'altro vietare la natura è una cosa folle da mente criminale da mente criminale chi ha pensato di poter vietare la natura allora noi oggi abbiamo finalmente se ne parla e dicevamo bene poc'anzi diceva bene poc'anzi il relatore che mi ha preseduto siamo anche tra virgolette fortunati in Italia perché in Spagna per esempio non si trova in farmacie infatti infatti addirittura i spagnoli per procurarsi la cannabis medica sono costretti ad andare nei social cannabis club e quindi non è un canale che passa attraverso le farmacie quindi questa è un'Europa sempre a diverse velocità così come in Olanda da sempre si trova al bar quando dico noi la nascondiamo nelle farmacie in Olanda si trova al bar allora per arrivare a questi giorni ho presentato due esempi di legge in passato uno addirittura che prevedeva quattro piante per tutti i maggioreni quindi la possibilità di coltivare quattro piante per tutti i maggioreni poi abbiamo pensato che c'era una priorità siamo stati sollecitati dalle associazioni di chi è malato allora abbiamo preferito dare visto che il governo come al solito ha fatto l'ennesimo danno ci siamo arrivati a giugno che era praticamente già finito quasi tutto il quantitativo disponibile da Berrocan e l'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze non è stato in grado di sopperire a questa mancanza del governo di non averci pensato in tempo la quantità di cannabis da prendere ho depositato anche una versione di legge che poteva aiutare i malati nei periodi diciamo difficili e che prevedeva quattro piante quindi di coltivazione domestica quattro piante per chi è malato come lo stesso medico che ti prescrive la cannabis da comprare in farmacia ti può fare una certificazione dove dice che quella malattia la puoi curare con la cannabis e quindi questo bisogno di legge prevede che ho depositato prevede che non è reato coltivare quattro piante se c'è un medico che certifica che sei malato ma questo non è che è un'idea nostra è proprio la giurisprudenza perché recentemente e sempre più spesso quando viene perché poi in Italia abbiamo questa anomalia che siamo arrivati ad arrestare i malati sei malato sì coltivi quattro piante in casa e ti arresto e quindi arrestiamo i malati questo è un atto veranissimo contro la costituzione che dice che è un diritto potersi curare e doversi curare allora visto che c'è questa carenza di prodotto di cannabis in farmacia allora per fortuna in questi giorni non risolve nell'immediato il problema però io ho presentato questi tre emendamenti sono passati tutti e tre uno che prevede appunto la possibilità di farla coltivare a enti e imprese quindi diciamo finisce il monofolio per la coltivazione dell'istituto militare di Firenze e poi abbiamo introdotto la formazione per i medici perché l'altro problema è i medici cioè quando il malato va dal suo medico e gli chiede posso curarmi con la cannabis il medico spesso e volentieri tranne i casilari si dice no perché ha paura perché non conosce l'argomento perché non sa neanche dove si trova la betroca perché non sa che cos'è il betrolite o il betion e quindi il malato è costretto sempre ad andare a cercare il medico di fortuna a chiedere a qualcuno dice a te chi l'ha prescritta poi quando ha la prescrizione dice che bello finalmente vado in farmacia e trovo la cannabis e io la cannabis non c'è quindi speriamo che dando la possibilità della coltivazione ai privati quindi di poter sopperire così come i 700 di euro che il governo ha stanziato dal deduto fiscale per l'acquisto è partito adesso il bando si trova su difesa.it praticamente scava il 12 dicembre quindi questa cannabis che serve ieri arriverà a febbraio questi sono i danni che ha fatto il governo e parliamo di malati e parliamo di malati quindi l'altra possibilità l'altro emendamento che è stato approvato che ho depositato è quello che prevede che l'Istituto Militare di Firenze che poi alla fine dovrebbe raccogliere un po' la coltivazione degli enti delle imprese che la coltiveranno utilizzate dal ministero potrà preparare i preparati vegetali quindi diciamo anche per sopperire in Italia non ci sono non tutte le farmacie sono galeriche quindi non tutti possono preparare il cosiddetto preparato vegetale quindi parliamo di olio con il metodo azica un po' di compresse di altri preparati proprio appunto galerici e quindi questo sono i risultati che siamo riusciti ad ottenere alla fine del registrato noi ovviamente io parlo 9.5 stelle siamo favorevoli se ci sarà data la possibilità di votare questa legge che arriva adesso dalla Camera noi siamo pronti prontissimi a votare anche così com'è per evitare che possano tornare indietro che in realtà poi non servano quindi noi siamo pronti adesso vediamo se tutte le forze vorranno effettivamente ma può portare avanti questo bisogno di diretti che ci è arrivato dalla Camera grazie grazie senatore il Presidente è condizionato che ha risultato la richiesta relativamente a un incontro che avevamo chiesto non ci ha dato una data per l'incontro ma ci ha detto che comunque il bisogno di diretti ancora non è stato parlamentare quindi siamo un po' indietro se è posto un piccolo emendamento purtroppo qualcuno dalla fine si butta si butta perché c'è la guardia di finanza alla porta e magari chiamata dai giuditori ma non certo per l'assunzione di Camera Marco Ternelli farmacista è uno di quei farmacisti che in questi mesi inizia ha detto una domanda di mail disperata da parte dei pazienti che ha reso il farmaco a base di Camera quasi migliato ormai perché sono rimasti poche farmacie in Italia forti di scorte che avevano in precedenza noi eravamo un perfetto di quelle i pazienti cercavano ovviamente l'assalto alla Bastiglia c'è della cannabis in assolutamente di bisogno non la trovo da nessun'altra parte provoli ma ovviamente i riferimenti mancano ormai da quasi due mesi ci è stato detto correttamente a maggio-giugno è iniziato questo problema i ragionamenti sono calati fino a fermarsi praticamente al mese di ottobre e quindi fino all'anno prossimo quando ripartirà da una parte l'importazione della metro canna di tolandese e come ha detto il senatore prima correttamente a febbraio arriverà la cannabis del vando che attualmente è in corso con dei tempi serviva ieri serve adesso serve oggi ma arriverà a febbraio se frattempo a gennaio di nuovo tornerà la bedlock insomma con inizio dell'anno le cose ripartiranno il problema sarà che molto di quello che si è guadagnato a livello di terapia in questi mesi parlo per i malati è andato perduto perché per come la cannabis lavora sul nostro organismo quando la terapia si sospende è una terapia che non può essere ripresa dal punto in cui è stata interrotta ma secondo da quanto è stata sospesa bisogna ripartire addirittura a volte come se non si fosse mai assunta questo perché il nostro corpo richiede una cosa del dosaggio perché parliamo comunque di farmaci personalizzati non c'è la cannabis non è un farmaco tipo industriale per cui c'è quella dose dove siamo diventati andare in farmacia a prendere un antibiotico che ci ha dato il medico a quel dosaggio due volte al giorno una settimana abbiamo finito è un farmaco che questo è un vantaggio voglio farlo vedere va personalizzato diceva prima il dottor Poli ognuno ha la sua cannabis quando si fa la cannabis si pensa al THC ma non è la cannabis non è il THC così come il THC nella cannabis si assiste cannabis visto che ha altri componenti non ha quasi THC però lai si citava prima ognuno ha il suo questa legge sicuramente sperando che passi questi emendamenti questa legge e questi emendamenti serviranno perché la cosa fondamentale è ampliare aumentare il numero di cannabis prodotta sia che sia prodotta in Italia sia che sia importata dall'estero attualmente il grosso col di bottiglia è stato per quest'anno un ministero che ha limitato a soli 200 kg l'importazione di cannabis quanto a giugno eravamo arrivati a 150 è stata un'iniziativa addirittura neanche del nostro ministero ma della Bedrocan avvisare e dire guarda che hai usato sui 200 kg di 150 kg in 6 mesi te ne mancano 50 devi fare qualcosa qualcosa diciamo è stato detto prima è questo 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 bambino di 100 kg che arriveranno a febbraio e questa normativa che grazie al cielo c'è speriamo che passi anche perché qua concludo la cosa un'altra cosa importante è garantire l'uniformità del sanitario nazionale non più regionale ai pazienti in particolare separato di terapia e del dolore è fondamentale che per ricordare che siamo tutti cittadini di serie A abbiamo tutti la stessa costituzione in alcune ragioni per alcuni tipi di dolore il paziente non paga in altre ragioni per altri tipi di dolore il paziente non paga in altre ancora il paziente paga sempre e comunque per qualunque tipo di dolore almeno questa normativa permetterà se verrà correttamente applicata e approvata di avere almeno sulle terapia del dolore avere lo stesso trattamento quindi la tanno di carico del sistema sanitario grazie grazie Marco grazie a tutti grazie a tutti i presenti anche Stefano Cerconi che è responsabile per le politiche della salute in generale per la Confederazione e Teresa Merini che per la funzione pubblica CGL segue questo settore questo tipo di problemi lo sottolineo perché è importante rimarcare che la CGL è impegnata da tempo e decisamente in questa battaglia perché 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 come ogni sindacato confederale il diritto alla salute il diritto alla salute i diritti alla salute in generale oggi fortemente compromessi nel nostro paese in genere per il problema ben noto nel taglio delle risorse ma qui le risorse di cui abbiamo sentito parlare sono risorse miniche allora c'è un problema grave gravissimo di resistenza burocratica culturale anche politica permettetemi il paragone con il vero e proprio sabotaggio della 194 la legge dell'interruzione volontaria di gravidanza anche qui non so se si può parlare di sabotaggio certo per la disponibilità di questa sostanza così importante per i malati sicuramente si può parlare di esistenze culturali politiche burocratiche di ostacoli che vanno assolutamente per la 194 c'è un movimento di donne forte orgoglioso importante a fianco del quale movimento la CGL si è sempre schierata per questo problema c'è un movimento abbiamo visto i riflessi il rispecchiamento di questo movimento di opinione pubblica di esperti e soprattutto di malati anche negli interventi di oggi non sto a ripetere le cose giuste che sono state dette e noi siamo quindi a fianco di questo movimento e ci auguriamo che sia possibile ottenere il risultato di cui si è parlato oggi un'ultima osservazione la CGL come gran parte delle forze che sono qui presenti si batte da tempo non solo per l'obiettivo di cui stiamo discutendo oggi ma per la piena legalizzazione della CANTIS allora con un linguaggio sindacale si potrebbe dire poiché quell'obiettivo è stato clamorosamente mancato meglio un cattivo accordo che nessun accordo no non è questa la logica che ci spinge io userei piuttosto un termine degli operatori delle tossicodipendenze la riduzione del danno qui il danno c'è ed è lo svuotamento di un importante disegno di legge che noi appoggiavamo si tratta di ottenere una necessaria necessarissima riduzione di questo danno si tratta quindi di ottenere una normativa parziale riduttiva rispetto a ciò che noi speravamo ma che quantomeno possano rispettare i diritti dei malati e la scienza degli esperti e degli operatori grazie Gesùsette Valentina è raggiunti anche che non è la casa segretaria della protezione di un'opera buongiorno buongiorno molto per me sono una riflessione amare dal punto di vista tecnico sono intervenuti persone che ovviamente ne sanno molto più di me però ci troviamo a finire la legislatura e notiamo come questo disegno di legge non è l'unico ad essere sospeso e ad essere a rischio di non essere approvato appunto si è appena nascita fino a Managallo c'è il disegno di legge sul testamento biologico da un'altra parte c'è il testamento il testo per la riforma sulla legge della cittadinanza quindi come dire la riflessione è proprio quanto spazio fatica la nostra ragionare sui diritti e appunto abbiamo delle categorie che sono presenti dei malati e quindi come dire dover spendere tutte queste fatiche tutte queste energie per garantire a dei malati un diritto è una cosa che diciamo così sembra impossibile eppure succede quindi l'augurio e l'auspicio è che in questi pochissimi giorni e settimane che ci si faranno nella legislatura una presa di coscienza diciamo così una sorta di scatto in avanti possa essere fatto e questo è come altri viti che sono banali nella loro semplicità e nella loro facilità di comprensione anche possano essere possano trovare finalmente ecco una risposta di questa con me grazie il senatore Corradino Mineo già raggiunti se vuole avvicinarsi dopo però chiediamo scudo perché siamo in gravissimo ritardo ma se vuole prendere la parola se non è chiesto Franco Puglione già se ne andò velocemente si è chiaramente tutti i temuti del risultato ho ascoltato molti interventi alcuni che provocano commozione per racconti di vita intensa collegata alla possibilità di avere uno sollievo alla propria malattia e dall'altra l'impossibilità la sordità rispetto alla risposta e poi ho ascoltato gli interventi dei senatori e devo dire che c'è competenza il senatore Cianpolino ha dimostrato che abbiamo ben seminato nei decenni scorsi per cui c'è una capacità di ragionare molto molto forte io voglio dire che sulla canapa c'è una menzogna che continua noi tanti anni fa con Giancarlo Arnao che è morto ormai abbiamo ricordato 17 anni facendo conoscere in Italia il volume fondamentale di Zegna e l'epoca marioana miti e fatti qui si viaggia ancora sui miti noi dobbiamo replicare tante pseudo ricerche che vogliono negare le buone ragioni di questa piatta ma io voglio però in questa veste di coordinatore dei garanti dei detenuti nelle carceri italiane voglio dire che in carcere le vittime della repressione legata alla politica delle droghe sono tanti noi abbiamo più del 30% per la violazione della legge sul consumo dell'articolo 73 sul consumo e il piccolo spazio e poi abbiamo un numero di tossicodipendenti ancora vertiginosamente alto e continuano e siccome aumentano i detenuti aumentano perché aumentano i detenuti in relazione ai reati di droga o alla tossicodipendenza beh che relazione ha questo? beh in carcere ci sono molti malati con patologie trattiche e io penso che questa possibilità di cura con la canata debba essere estesa anche ai malati in carcere che sono confinati in situazioni di oscurità totale quindi l'impegno che io prendo è questo fino adesso è stato ottenuto poco ma intanto questo diritto di cura c'è poi magari non si realizza ma c'è e come c'è per i malati liberi io penso che dobbiamo il mio impegno è che ci sia anche per i tanti malati con patologie che sono nell'elenco previsto per l'uso di cannabis anche in carcere abbiano questo questo diritto questo mi pare che è una una frontiera nuova che apriamo anche per far scoppiare la contraddizione appunto fra ciò che è bene ciò che è male ciò che è legale ciò che è legale e quindi l'idea che anche in carcere ci sia questa non solo si va in carcere per violazione della legge ma in realtà si possa essere anche curati con quella pianta per cui magari si va in galliera l'unica cosa è che ci sono tanti medici scienziati malati farmacisti mancano i giudici forse il prossimo incontro lo dovremmo fare con i giudici per evitare sentenze che provocano danno e dolore a chi già soffre grazie grazie di essere venuti anche voi con i tempi siete invitati anche a prendere la parola se è correttino può essere una parla io ho scontato molto interesse di interventi precedenti di malati di sicurezza della cannabis il fatto che in italia da dieci anni nel 2007 sia legale curarsi con la cannabis ma di fatto sia per diversi ostacoli quasi impossibile farlo vorrei usare la parola forza per me è un crimine per me viene un'altra parola per definire una violazione di un diritto come quella della salute costituzionalmente garantito è un crimine il fatto che sia difficile reperire i farmaci a base di cannabis il fatto che le prescrizioni siano solo una certa quantità e che si possono avere altre prescrizioni fino a quando non si è quasi alla fine di quella e quindi spesso ci sia un periodo di stacco tra l'arrivo di una parte del farmaco e l'altro il fatto che siano dei costi eccessivi la produzione e lo stabilimento militare in Firenze serviva è anche ad abbassare i costi ma fino a poco tempo fa vanno a oltre 25 euro al grano che è un costo che non tutti possono affrontare il fatto che non si riescano a trovare medici che prescrivano il farmaco a noi sono capitati storici di persone di malati che sono venuti in ospedale per la loro patologia i medici gli hanno proposto gli hanno consigliato di curarsi attraverso la cannabis poi quando sono andati al loro medico di base per farsela prescrivere il medico di base non gliela prescrive dicendo che non conosceva il prodotto che non si invitava che secondo lui non era un'alternativa valga per quel tipo di patologia e il fatto che chi decida poi di avviare un'autocoltivazione per ovviare tutti questi ostacoli venga arrestato finita in carcere in un percorso penale che aggiunge ulteriore stress a quella che è già lo stress dovuto ad una malattia in questo senso lo straccio miotto insomma noi auguriamo che il senato approvi può essere un piccolo passo avanti in cui crea un quadro generale sul tema della cannabis terapeutica certamente però non basta sappiamo bene conosciamo il nostro paese abbiamo tante leggi anche buone che non vengono necessariamente applicate quindi quello che si chiediamo oltre a approvazione di questo straccio è il fatto che ci siano degli investimenti seri da parte del ministro della salute in primis per fare campagne informative rivolte sicuramente i medici per incrementare diceva prima più fondi della ricerca perché quella della cannabis terapeutica è un mare in Italia ma è minerale nel mondo ancora fortemente inesplorato e invece sappiamo già che le patologie che sicuramente sono molte e sicuramente si possono trovare altre situazioni nel momento in cui si inizia di investire seriamente nella ricerca se non si costruisce tutta questa catena tra la presenza del farmaco la ricerca i medici che la prescrivono questa legge e la sua l'azione non basta quindi serve uno slancio culturale anche nel nostro paese e tutti quelli che lavorano su questo tema grazie 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 se il senatore Mineo vuole dire qualcosa o qualcuno del gruppo ci siamo ricordato prima che questa è un'iniziativa principalmente trans diciamo gruppistica che però va dal centro verso sinistra sono pochi di quelli del centro destra che hanno sottoscritto la legge pochi ma buoni sicuramente però se non fosse stato il partito democratico il gruppo ministro sinistra italiana ovviamente cinque stelle non saremo mai andati da nessuna parte speriamo che sui temi l'unione laica continui ad essere un po' in modus operandi delle nostre camere ma io spero di sì tra l'altro ne conosco le votate i senatori di destra che sono d'accordo con la legge e che la sostenere la nuova e questo probabilmente in futuro avrà sempre di più ricordo che in questo caso si può una questione della missione di salute della missione di D la missione di dignità e la questione è anche di di roccia per la sua giustizia un po' un pericolo il pericolo di come si usa il proiezionismo anche per diciamo emarginare i soggetti su queste questioni si possono trovare quantità e quantissime io penso che la scelta che può essere stata la scelta giusta purtroppo siamo in parte l'assoluto al Parlamento di cosa non riuscire in quel tempo che riguarda il tema noi oggi siamo qui anche perché la seconda è sospesa perché quando fraggiarse per trovare la proposta sulle finanziarie è un problema di rispondere per carità si è detto tanto che gli emendamenti e i partiti di aula sulle finanziarie possono essere comunicati per le macchine ma sta a dire che il Parlamento non parla e aspetta soltanto mentre si parla in altre aule è molto complicato io dirò il risultato perché mi pare fondamentale che almeno la pubblicità della discussione sul tema che stanno ancora le persone e il contorgimento di quelli che sono poi diciamo il popolo che decide ma anche leggendo anche i colleghi non decide che è il unico modo che ci può scavare da questa sensazione di potenza che non è la mia che spero il vostro progetto va avanti e tutto quello che possono noi grazie grazie signor Pineda è andato insieme un grado che posso può entrare per partecipare a San Bassi l'ultimo nostro intervenuto grazie sono a San Bassi dell'associazione Forum Drone e niente faccio un intervento proprio solo di rappresentanza per dire come sia incredibile non solo trovarsi oggi in così tanti ma incredibile che si sia contento a trovarci oggi dopo quasi dieci anni in cui la norma è stata approvata a rivendicare un diritto che è sancito per costituzione un diritto alla guerra probabilmente l'intervento che abbiamo preceduto però già più che esattivamente ha affrontato tutto il tema della legislazione e del percorso che ha fatto questa proposta di legge sulla cannabis e come sia stato giustificato lo straccio che oggi dovrebbe essere approvato proprio perché lo straccio è venuto perché si approvasse almeno l'utilizzo attraverso una legge della canna di sterapecchi e quindi per garantire un diritto alla cura appropriata a migliare delle persone non aggiungo altro sono certo che gli interventi che mi hanno preceduto hanno più che sottolineamente affrontato il tema come dire i tempi stringono ma insomma dopo dieci anni non mi sembra che ci sia pronta aspettare niente grazie stiamo scorando se ci sono domande per quanto i tempi siamo in disposizione perché non ci caccia è l'attesa che qualcuno prende il coraggio sicuramente oggi non è la fine abbiamo provocatoriamente convocata con una slogan quasi ultimativo questa conferenza stampa l'ultimo atto per i pochi giorni che concludono il 2017 non si è considerato la legislatura e magari uno di questi disegni di legge che sono stati citati oggi potrebbe essere il motivo per cui alla fine non c'è più una maggioranza che vuota la fiducia ha combattato a questo governo faremo tesoro di tutte le cose che sono state per preparare un documento lettera aperta appello da inviare al ministero competente e non sono più tra virgolette diciamo ai noi sono quello della salute che includono anche quello della difesa e sicuramente della ricerca perché tutto ciò che è stato detto oggi è stato ripetuto oggi perché viene detto da anni e anni e anni di attività militanti parlamentari politiche istituzionali nazionali e internazionali anche perché se non vediamo mani che si alzano quindi possiamo avvicinarsi alla conclusione a maggio del 2018 l'organizzazione mondiale della sanità affronterà per una settimana una cosiddetta revisione critica della cannabis per eventualmente offrire alla Nazione Unite in Vienna dove si riunisce la commissione sulle droghe e crimine per raccomandazioni che possano spostare la cannabis dalla tabella delle droghe più pericolose a quella delle droghe che possono essere usate anche come medicina e magari fare il passo successivo a includere la cannabis nella lista delle medicine essenziali che dovrebbero essere garantite all'umanità tra queste c'è la morfina che è frutto di un'altra che è una droga proibita al 100% in giro per il mondo che è il seme di papavero sostanze che per quanto non proibite nella loro utilizzazione medica dovrebbero e quindi dovrebbero essere promosse nella costituzione e nell'investigazione vengono sì e no messe a disposizione del 20% della popolazione mondiale sono i dati dell'OMS quindi noi abbiamo il 20% di 7 miliardi e basta di persone che conoscono un analgesico non necessariamente l'uso di questo 20% l'80% è consumato esclusivamente negli Stati Uniti tant'è vero che anche in Italia l'accesso alla morfina rimane a noi un problema questo è una foglia delle tante foglie delle piante maestre mediche comunque se vogliono chiamare che noi oggi puliamo ma nel prossimo settimana a partire dalla campagna elettorale dove chiederemo a tutti i candidati e i partiti e i gruppi di esprimersi chiaramente su queste tematiche continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto perché la goccia scava la roccia e noi seminando fanno crescere un metro di pianta legale che oggi entrata in Senato grazie a Andrea grazie a tutti per essere intervenuti e a presto risultati grazie a tutti grazie a tutti